Toursianso è il progetto che il Comune di Tornione ha realizzato in collaborazione con l'Arpa Valle d'Aosta e con il CREA di Chamonix ha lo scopo di promuovere il territorio e questa promozione avviene tramite dei pacchetti che il Comune ha realizzato affinché scolaresche, studenti, famiglie e clientela normale che frequenta la montagna abbia degli argomenti da seguire per poter indirizzare le proprie vacanze sia sotto l'aspetto ludico, sia sotto l'aspetto turistico, sia sotto l'aspetto ambientale. Sono realizzati con l'ausilio di accompagnatori della natura, sono stati pensati per far conoscere la montagna e l'ambiente che ci circonda di giorno, ma anche di notte, tant'è che una parte di questi pacchetti coinvolge i visitatori sulle tracce degli animali e sulla visita notturna degli animali che vivono l'ambiente di montagna. Per andare a scoprire le bellezze del territorio e per scoprire anche le peculiarità di ogni pacchetto Toursianso non c'è niente di meglio che utilizzare le bike, un mezzo molto interessante che aiuta a scoprire angoli importanti della montagna in assoluta tranquillità e serenità. Con il progetto Toursianso l'offerta turistica è stata ampliata. Chi cerca la montagna, grazie ai pacchetti che sono stati realizzati, potrà conoscere il nostro museo no grafico, conoscere il foliage d'autunno, visitare il territorio grazie ai sentieri che sono stati realizzati in alta montagna oppure andare alla ricerca delle tracce degli animali, tutto questo all'insegna di un turismo sostenibile. Vi invito a visitare il sito www.torgnon.org e scoprire tutte queste bellissime iniziative. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!